L'imperato è imprevedibile, c'è un livello molto alto e tranne la Reggiana e il Modena, le altre sono tutte livellate. Io penso alla mia squadra, penso a capire, ripeto, come possiamo essere protagonisti dentro le partite e mi sembra che in questa fase i ragazzi stanno dimostrando i continui step di miglioramento. All'Intella forse è la rosa a livello di qualità di giocatori, migliore che c'è ancora di più del Modena e della Reggiana che al contrario invece hanno forse un mix più funzionale, però a livello di qualità dei singoli sono veramente al top. Dopodiché hanno delle assenze come le abbiamo noi, vedremo quali saranno i veri titolari, ci sono tante variabili. Parlare della partita oggi, veramente parliamo di 5 partite in 12 giorni, 14 giorni, è troppo difficile. Dobbiamo essere pronti a tutti, leggere l'imprevisto e saperlo risolvere. Grazie a tutti. Grazie.